Wilfredo Leon Venero, prima volta a Perugia, un curriculum molto importante è il tuo, ma giocare nel campionato italiano ti farà qualche effetto particolare? Sicuro, sicuro perché questo curriculum che è fatto avanti ancora è stato per la storia, ancora per il futuro mi spero un campionato italiano più forte dove io penso che con il lavoro che c'è con la squadra di Perugia possiamo fare una nuova storia. Per me questo è molto importante perché stiamo parlando di un campionato il più forte del mondo in questo momento e vencere questo campionato è come tenere una gloria. Nel campionato italiano ci sono tante avversarie importanti, forse la più importante è Civitanova Marche dove ci sono tre cubani, cosa ti stimolerà a fare in quella partita? Sarà un derby doppio per te? No, il primo stimolo è vencere, non solo perché gioco contro una squadra che c'è tra i cubani, ma perché sei il mio avversario e sempre quando sei fatto il gioco uno gana. Io in questa direzione c'è la mia cabeça, devo vencere se voglio andare con la vittoria a casa e tutti sei contenti qui. Perugia giocherà subito un trofeo importante in casa, i primi di ottobre ci sarà la Supercoppa italiana, Leon arriva dopo un'estate di tranquillità, di rilassamento, come sarà? Sarà pronto Leon per quell'appuntamento? Penso che sì, ancora dobbiamo fare molto allenamento, più di più, ingrazzare una squadra per formare, per giocare qui a casa. Leon ancora sei molto tranquillo perché sei concentrato ancora dopo una vacanza grande e c'è la nuova energia per giocare questo primo torneo a casa.